Sono Giovanni Anceschi, CEO di Energy Way e sono qui oggi a rappresentare la nostra azienda e in particolare a sottolineare come la nostra visione orientata a portare strumenti di data science in tutte le aziende possa supportare la transizione verso un'economia circolare. Lavoriamo tutti i giorni per portare un approccio data driven e quantitativo all'interno dei processi aziendali e industriali e quindi siamo qui per portare una nostra testimonianza di come l'analisi dei dati a supporto delle decisioni possa essere veramente un driver fondamentale per questa transizione che auspichiamo.